Ciao ragazzi, volevo un po' raccontarvi quello che sta succedendo in Nigeria in queste ore e anche raccontarvi la testimonianza di mio padre che ha avuto un'esperienza un po' spiacevole con SARS diversi anni fa. Quindi per chi fosse interessato vi do un po' un'infarinatura generale se proprio non sapete nulla di quello che sta accadendo. Allora, in questi giorni forse avete visto tante bandiere, verdi, bianche e tanti hashtag and SARS e cose di questo genere. A cosa facciamo riferimento? Allora, SARS è l'unità speciale antirapina che è stata creata in Nigeria nel 1992. Quindi SARS Special Anti-Rubbery Squad. Questa unità fu creata per contrastare crimini come appunto la rapina, il furto, l'uso illecito di armi da fuoco, l'estorsione, i rapimenti e cose di questo genere. Però, per grande scasso del destino, questi crimini che SARS avrebbe dovuto contrastare, loro sono stati i primi ad attuarli. Perché appunto negli anni ci sono tantissime testimonianze di abuso di potere da parte degli agenti SARS, uccisioni di persone innocenti, stupri, estorsione e cose di questo genere, insomma. Ed in generale la polizia in Nigeria tende sempre ad avere un atteggiamento antagonista verso i cittadini e anche abbastanza violento. Mentre tutte queste cose stavano succedendo in questi giorni in tv, ovviamente io ho una fonte di informazione autentica. Che è mio padre che addirittura ha lavorato in politica in Nigeria ai suoi tempi. Quindi gli ho chiesto, ma tu hai mai avuto un incontro con SARS? E vi giuro che non mi aspettavo che mi dicessi sì. Quindi mi racconta un po' di quello che gli è accaduto nel 2012. Una sera in cui lui era in un veicolo insieme ad altre persone, c'era un autista che guidava. Lunga storia, ve la faccio un po' breve. Il SARS ferma il veicolo. Ferma il veicolo così dal nulla, non è che avesse fatto un'infrazione, ma lo ferma. E trascina giù l'autista, lo prendono a calci e poi fanno mettere in riga tutte le persone che erano dentro il veicolo. Gli fanno mettere in riga e uno a uno, tu chi sei? Chi sei? Cosa fai? Cosa fai? Quindi molto violenti, molto forti, stanno guardando uno ad uno, cercando di capire chi fossero, cosa facessero, cose così. Poi quando arrivano mio padre, mio padre mi ha detto, se tu, anche se sei nigeriano, torni in Nigeria, ma non sei stato lì da tanto tempo, te lo si legge in faccia. E quando me l'ha detto io ho detto, ma vabbè, cosa sto dicendo? Ma in realtà non è tanto assurda come cosa. Avete presente a settembre quando si torna in ufficio, si torna a scuola e vedete una persona che è particolarmente abbronzata o comunque che ha una luce diversa, non so, e capite che ha questa persona andata in vacanza. Ecco, allo stesso modo, cioè lui mi ha detto che se l'hai presa con lui, non lo specifico, perché comunque si vedeva, forse anche da come era vestito, dalla borsa che portava, da comunque il tono di pelle che si era un po' sminuito, no? Che non era più di lì. Quindi se l'hai presa con lui, ma cosa fai? Di dove sei? Mostrano il tuo passaporto, boom, 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 boom. E ad un certo punto mio padre comunque un po' arrancando, comunque cercando di parlargli, non ha visto il grande ceffone che gli è arrivato in faccia, sbattendolo a terra. E se non fosse stato per le persone lì attorno, che hanno comunque cercato di fare de-escalation, non si sa, l'avrebbero forse picchiato ancora di più di quello che hanno fatto. E quando mi ha raccontato questa storia sono rabbrividita, mi è dispiaciuto tanto, ma ad essere sincera non è neanche la prima volta che sento di comunque storie in cui la polizia si comporta in modo troppo violento, comunque la polizia cerca di estorcere denaro ai vari blocchi o in generale perché tu non riesci ad ottenere qualcosa in Nigeria, devi sborsare. Alla luce di tutte le proteste che sono accadute in questi giorni, il capo della polizia dieci giorni fa annuncia lo smantellamento di SARS e tutti, ah che bello, che bello, è stato finalmente smantellato. Però questa è una cosa che si era già sentita, perché l'hashtag N-SARS non è nato quest'anno ma è nato nel 2017, quindi è un po' un disco rotto che si ripete e la gente non ci crede più. Noi vogliamo fatti concreti, cambiamenti concreti, non soltanto parole. Per questo le proteste non si sono ancora fermate, anzi stanno diventando sempre più intense perché la popolazione si è stancata e penso che questa cosa fosse inevitabile che accadesse proprio nel 2020, perché il 2020 è un anno che passerà negli annali, un anno che ha davvero smascherato la faccia di tanti governi. È comunque un anno in cui c'è tanta frustrazione proprio a livello sociale e c'è tanta incertezza, incertezza sanitaria, incertezza economica e questa incertezza porta la gente ad avere più paura, ad essere più in ansia e questa specie di discomfort sociale porta un po' a galla tutti gli altri problemi che magari in precedenza è stato più facile ignorare. Quindi in Nigeria queste cose ormai non si possono più ignorare, soprattutto da parte dei giovani che siamo molto molto accaniti e comunque abbiamo uno spirito ribelle che non ci lascia stare in silenzio. Penso che questa sia una cosa giusta e da far peggiorare le cose è quello che è successo ieri alle Chi. Quindi noi tutto quello che vogliamo è un cambiamento. Molti artisti nigeriani si sono esposti e hanno detto qui non stiamo protestando per cose basilari, non stiamo protestando per acqua, non stiamo protestando per l'elettricità, per la sanità, stiamo protestando per cose che vengono ancora prima di quello. Stiamo protestando per la nostra vita della serie potete per favore non ucciderci, potete per favore essere civili. Questo mi pare ancora meno meno del minimo. Il fatto che comunque il governo abbia avuto un approccio così antagonista che si sia comunque rifiutato di ascoltare è una cosa che farà arrabbiare ancora di più la popolazione e crea proprio sfiducia e frustrazione negli animi delle persone, soprattutto alla luce di quello che è successo ieri. Il 20 ottobre 2020 in Lagos c'era una protesta che era pacifica, alcuni erano seduti ed è stata tagliata l'elettricità nelle strade in cui si protestava e sono usciti degli individui in tenuta militare e hanno iniziato a sparare sui protestanti. E questa è davvero una cosa raccapricciante e inaccettabile. Il fatto che si stia facendo di tutto per far tacere queste persone che protestano per cose assolutamente meritevoli. Allora, indicano coprifuochi, tolgono l'elettricità, arrivano a sparare proiettili. Qui siamo davvero, davvero a livelli assurdi. Questa mattina stavo guardando un telegiornale locale ed erano in diretta dalle chi quello che stava accadendo e si respirava proprio, cioè il conduttore stava dicendo che si respirava un'aria proprio di terrore, di paura, perché la polizia ha avuto questa risposta molto, molto aggressiva. Mio padre stamattina ha telefonato persone che conosceva il Lagos e gli ha detto, fatta attenzione, non uscite di casa. Ho appena letto un messaggio che ha ricevuto mio padre e gli ha scritto, ho paura, sono appena tornata a casa, stanno sparando. Quindi proprio sorreale, sorreale. E da parte nostra, giovani nigeriani che magari non vivono in Nigeria, penso sia importante essere informati, sensibilizzare il più possibile. E più avanti cercherò di trovare qualcosa di concreto da fare per aiutare la situazione e comunque esserne parte, perché penso che sia una lotta meritevole. Quando accade in Italia, anche io sempre mi voglio schierare, se accade in Nigeria, ha ancora di più, penso sia importante, schierarsi, far sentire le nostre voci, mettere pressione a livello sociale, così che il cambiamento accada e che le vite perse non siano state perse in mano e che ci sia giustizia soprattutto. Una delle cose che noi chiediamo è la giustizia, i poliziotti che hanno puntato la pistola e sbagliato i proietti che vengano arrestati assolutamente. Quindi questo è tutto, un po' una cosa generale su quello che sta succedendo e a presto.